Nei precedenti capitoli abbiamo visto quali sono stati i rapporti di equilibrio che si sono creati in Europa e nel mondo e anche in Italia dopo la seconda guerra mondiale, da parte degli stati nazionali, delle sovranità nazionali. Andiamo a vedere cosa è successo invece dopo la seconda guerra mondiale nelle vecchie colonie dei grandi imperi europei che adesso si erano sgretolati. Quindi vediamo la definizione di nuovi paesi che precedentemente appartenevano ai grandi imperi occidentali e che adesso raggiungono o pacificamente o attraverso dei conflitti l'indipendenza e l'autonomia. La decolonizzazione avviene attraverso due strade diverse. O attraverso l'emancipazione pacifica in cui anche dopo aver raggiunto l'indipendenza si mantiene un certo legame sia economico che culturale con l'ex paese dominante. O attraverso la lotta armata, attraverso un aperto conflitto col paese dominante, non solo contro il paese dominante ma contro il sistema capitalistico che aveva indotto, che aveva generato l'imperialismo. Con movimenti di liberazione che si ispirano soprattutto ideali comunisti, ottenendo anche il sostegno diretto o indiretto della Unione Sovietica e della Cina. Ma perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale comincia questa lotta per l'indipendenza politica nei paesi colonizzati? Ci sono diverse ragioni. I giovani indigeni della borghesia locale, che erano stati impiegati nella pubblica amministrazione dopo essersi formati nelle università europee, avvertivano un senso di ingiustizia nei confronti della demoniazione rispetto al proprio paese. Facciamo l'esempio dell'India. In India i giovani delle famiglie più ricche dell'India venivano mandati a studiare in Inghilterra per formarsi come funzionari statali, come amministratori, e tornavano a governare l'India per conto dell'Inghilterra. Questa è una cosa che generava un profondo sentimento di ingiustizia e di indipendenza. Durante la Seconda Guerra Mondiale molti dei soldati inglesi e francesi provenivano proprio dalle colonie. In cambio di questo supporto durante la Seconda Guerra Mondiale, adesso i cittadini delle colonie rivendicavano un risarcimento, una ricompensa per il servizio prestato. La Gran Bretagna e la Francia, usciti indeboliti dalla guerra, seppur vincitori, erano usciti indeboliti dalla guerra e non ce la facevano più a mantenere il controllo militare ed economico sulle colonie, che quindi si sentivano un po' più libere dall'oppressione degli imperi coloniali. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica spingevano per la disgregazione dei grandi imperi coloniali, perché per loro sarebbe stato più facile esercitare la loro influenza su piccoli paesi indipendenti anziché su grandi imperi. Inoltre, nell'opinione pubblica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la definizione dei crimini contro l'umanità e il nazismo, cominciava ad affermarsi una nuova sensibilità nei confronti dei diritti dei popoli, dei diritti umani. Quindi l'insieme di tutte queste cause fu l'origine dell'attività di decolonizzazione. Come sappiamo, l'imperialismo e il colonialismo erano nato per la ricerca di nuove risorse dopo la Seconda Rivoluzione Industriale. Quindi il sistema economico delle ex colonie era legato essenzialmente alla produzione di uno o di pochissimi prodotti, che erano commerciati in regime di monopolio con i paesi dominanti. Perciò, anche dopo l'indipendenza, per controllare i servizi, le tecnologie e le infrastrutture, gli ex paesi coloniali rimasero dipendenti dai dominatori, che di fatto continuavano a influenzare la politica e l'economia delle ex colonie. Ecco perché anche dopo il processo di decolonizzazione si parla di neocolonialismo, cioè le ex potenze coloniali continuavano a esercitare il monopolio e il predominio rispetto all'economia e alla politica dei nuovi paesi indipendenti. Nei nuovi paesi indipendenti si svilupparono presto dei conflitti. Perché? Perché, per esempio, se prendiamo l'Africa, i confini degli stati africani, che vedete sono tutti abbastanza quadrati, abbastanza rettilini, erano stati tracciati dalle potenze coloniali per spartirsi il territorio. In questa spartizione non si teneva conto delle differenze etniche e tribali. Questa è una carta etnica tentata, che fu disegnata da un etnografo, Mardoc, che ci fa capire come nella definizione dei confini, per esempio, degli stati africani, vedete tutte queste chiazze sono le diverse etnie che finiscono con essere divisa, per esempio vedete questa macchia grigia, fra tre paesi. In alcune parti questa etnia era la maggioranza nel paese, e in altre parti era la minoranza. In altri casi vengono tenuti assieme più tribù, più etnie in uno stesso paese, e poi con le conseguenze che stiamo vedendo ancora oggi, per esempio in Libia. Di conseguenza, nei nuovi stati si trovavano etnie e tribù storicamente ostili. Oppure grandi etnie ridotte a minoranza. Si generavano quindi violenti conflitti, e in queste lotte si insediavano, oltre alle ex potenze coloniali, anche gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che in realtà puntavano a spartirsi le risorse di questi paesi. Quindi il fatto che si siano generati nuovi paesi non blocca l'influenza e l'intervento delle grandi potenze europee e extraeuropee sui paesi stessi. All'interno della guerra fredda, all'interno della competizione Stati Uniti-Unione Sovietica, si ponevano quindi dei nuovi paesi che prima non esistevano. Tuttavia molti di essi rifiutarono di schierarsi con uno dei dei blocchi, non allineandosi, infatti vennero chiamati paesi non allineati. Nel 1955 in Indonesia si tenne una conferenza, la conferenza di Bandung, in cui nacque appunto il movimento dei paesi non allineati, composto da una trentina di paesi dell'area afro-asiatica, più la Jugoslavia e la Cina. E fu proprio in questo periodo che entrò nell'uso comune il termine terzo mondo, perché questi paesi erano fuori dal primo mondo, cioè dal sistema capitalistico di stampo americano, fuori dal secondo mondo, cioè quello dei paesi comunisti, economia pianificata, e costituivano un terzo mondo. Per estensione poi la definizione di terzo mondo è passata ad indicare paesi con un'economia molto debole e con un alto livello di povertà. Vediamo adesso il movimento di decolonizzazione in Asia, che interessava soprattutto l'impero britannico. Già dopo la crisi del 29, la Gran Bretagna aveva avuto difficoltà a mantenere il controllo su alcune zone del suo impero, concedendo così autonomia a paesi come il Canada, la Nuova Zelanda, l'Australia e il Sudafrica, che erano entrati a far parte del Commonwealth. Questa associazione di ex appartenenti all'impero britannico, di cui vedete qui la bandiera, riconosceva il re d'Inghilterra come capo di Stato per quanto riguarda la politica estera, la politica internazionale, ma aveva effettivamente un proprio governo e un proprio Parlamento. Successivamente, nel secondo dopoguerra, quindi dopo la seconda guerra mondiale, la crisi dell'impero britannico diventò ancora più sistemica, più profonda, e molte colonie raggiunsero l'indipendenza per diverse strade, come vedremo. Partiamo dall'indipendenza dell'India. L'India contava 300 milioni di abitanti nell'immediato dopoguerra, con una maggioranza hindù e con una minoranza musulmana, che erano sempre in lotta tra di loro. Tuttavia, queste due anime si riunirono intorno al movimento di protesta non violenta del grande leader hindù Gandhi, detto Mahatma, grande anima. La protesta comincia già nel 1920, con il boicottaggio delle merci inglesi, che portò alla clamorosa iniziativa chiamata Marcia del Sale, in cui migliaia di indiani seguirono Gandhi per circa 300 chilometri da Nuova Delhi per raggiungere la spiaggia di Dandi sul Oceano Indiano, dove raccolsero una manciata di sale, era uno dei prodotti su cui i britannici avevano istituito il monopolio e su cui applicavano delle imposte per rivendicare appunto la proprietà di questo prodotto, di questo bene per gli indiani. A questa seguirono un'altra lunga serie di iniziative di disobbedienza civile, fino ad arrivare il 15 agosto del 1947 all'indipendenza del subcontinente indiano. Si chiama subcontinente per l'elevato numero di abitanti da cui è composto. Il problema fondamentale da risolvere dopo l'indipendenza era la convivenza civile tra hindù e musulmani, che presto si rivelò impossibile, per cui dal grande paese indipendente furono ricavati due stati. Entrambi entrarono a far parte del Commonwealth. La Repubblica Indiana, che consisteva praticamente nella penisola del Deccan, e a nord il Pakistan, diviso in Pakistan occidentale e Pakistan orientale. Nella Repubblica Indiana si erano insediati l'Indù, mentre nelle repubbliche islamiche del nord, Pakistan occidentale e Pakistan orientale, che oggi si chiama Bangladesh, si trasferirono i musulmani. Questo non fu un movimento, una decisione pacifica e serena, ma si generarono diverse migrazioni interne all'interno del paese e diversi conflitti, tanto che lo stesso Gandhi fu vittima di questi conflitti, infatti fu assassinato da un fanatico hindù nel 1948, che era contrario alla divisione del paese. Era per la soppressione dei musulmani. Finora abbiamo parlato di indipendenza non violenta conseguita dall'India, ma in Asia ci furono dei movimenti indipendentisti che si avvalsero della violenza e dell'uso della guerra. Un'altra potenza coloniale che predominava nel sud-est asiatico era la Francia. La Francia si era rifiutata di concedere l'indipendenza alle sue colonie dell'Indocina. Questo provocò duri conflitti nella penisola del sud-est asiatico, dove prese il sopravvento il leader comunista Ho Chi Minh che partendo dall'attuale Vietnam guidò un movimento indipendentista che portò alla guerra diretta contro la Francia. Ovviamente essendo un leader comunista era appoggiato dall'Unione Sovietica. Questa guerra si concluse nel 1954. Nella successiva conferenza di Ginevra si sancì la nascita di tre paesi indipendenti. Il Laos, la Cambogia e il Vietnam, quest'ultimo diviso tra nord comunista e sud filo occidentale. La divisione di questi due paesi condurrà successivamente ad una nuova guerra nel 1960 in cui gli Stati Uniti intervennero direttamente addirittura per scongiurare il dilagare anche a sud del comunismo e fu una delle guerre perse dagli Stati Uniti d'America. Poi lo vedremo in seguito.